È successo, è successo! Monored in questo momento è il mazzo con la Wii Rate più alta di tutto lo standard e io ho montato una lista che è un po' una via di mezzo tra la lista che giocavo prima io, prima di scoprire appunto che era il mazzo più forte dello standard la lista che è effettivamente la più forte dello standard che potete trovare su untapped.gg e con delle scelte mie spicy che appunto sono Trill Seeker, che mi piace tanto 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 e voglio provare Cot di side, voglio effettivamente vedere quanto Piccion e Trill Seeker vale ancora la pena giocarli vediamo, comunque sappiate che bene sì è successo mazzo rosso pipo grosso in questo momento ha la Wii Rate più alta dello standard, ripeto, è oggettivamente il mazzo più forte dello standard godo, godiamo, godete, alle partite, let's go! eccoci bello il mazzo rosso, rosso come il mare in cui navigo tutte le volte che scopo signor Capretti picotesia picotesia signor Capretti intanto abbiamo già messo bene in chiaro se vogliamo fare della nostra vita 2 lo mando a 3 ma questo si piglia a down provo o vo' nel viso e questo rimango, sì lo lascio lì, aspetto di pescare una Iri Warcraft quindi oggi sono mangiato una schiaccetta toscana, ebbene sì, le ho trovate come sempre l'ho detto all'esse lunga si trova schiaccetta toscana con il pesto all'aglio che avevamo fatto in casa perché era un pesto all'aglio, buonissimo infatti Silvia non l'ha voluto mangiare perché sembra troppo di aglio ma io, il peggiore sono troppi danni per non farlo pesto un pochino di concentrato di pomodoro e tonno definizione di godo ve lo giuro la definizione di godo devastante, buonissimo dai, mi devi suggerire dai, il gesto della vita eh, però, cioè nel senso ok, va bene tutto, però ogni tanto devi anche il gesto della vita nice, dis è il 4-4 che vuole far far rumore tira tutto a chi se no, la demo rubrica del cibo è molto più bella quando vi dico che puzzate rispetto a delle reali ricette sono lucido? trucco? trucco? eh, ho preso il patto del periglio però l'ital eh, eh, eh trucco? trucco? cipria? intanto una l'abbiamo messa diciamo, l'abbiamo fatto capire come stanno le cose dimmi il midrange secondo le winrate che appunto vi stavo dicendo prima secondo le winrate dimmi il midrange in questo momentolo del meta sta molto bene prima caricano le cose che io posso premere io vi faccio vi farei anche vedere no, non caricano dicevo io volevo vedere effettivamente il meta e invece non ah, ecco ok meta standard the best of three dimmi il midrange è il secondo mazzo più diffuso però ha una winrate è settimo in winrate quindi vediamo cosa sai dare perché non lo conosco non è questo ma sì, è questo e niente lui sai darà più più botti roba che eh prince walker fairy match ce l'ha tante creature quindi io terrei ah, shashi oldred metterei cot furnace punisher eh toglierei play with fire praticamente di netto beat fighter diventano un po' lenti effettivamente a questo punto a basso un thrill seeker sì warcrafting è forte contro lui perché gli spacca assolutamente tutto uno rosso inizia a scavarti il fosso e signori della corte eh già che ci siamo vi ricordo che domani con maffi facciamo la set review ma a seconda di quando esce questo video su youtube probabilmente su youtube l'hanno già vista però vabbè tu mario non 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 è mai un turno uno sbagliato tranne che in alchemy e historic dove ora fa cagare niente feldone cane fifone eh no maffi vedi che lei mi fa da marketer sbagliato prima finite di guardare questo video e poi andate a vedere la review eh lei così mi toglie l'engagement mi toglie il watch time signor maffi lei mi sbaglio mi cade sulle basi sulle basi se c'è go for the trot me la può spaccare se c'è go for the trot se c'è go for the trot me la spacca comano avrebbe fatto mi sono mutato perché pesto e tonno ho fatto una scurreggia che ha spettinato anche me cosa che non sembra possibile ma vi assicuro che è successa ok britney spears bravo maffi ecco ecco un consiglio da dare è nel dubbio i miei video guardateli due volte magari la prima volta vi siete persi qualcosa oppure teneteli in sottofondo mentre scopate no devo fare l'attention span della gen z devo fare il trucco quello che si usano su tiktok il video è diviso a metà in uno c'è quelli che fanno le cose con le slime che tagliano il sapone tutte queste cose tipo smr visivo e nell'altro c'è te che parli e fai le cose perché in questo modo l'altro video tiene l'attenzione dovrei metterlo metà schermo così metà schermo qui che metà schermo qua che gioco a magic metà schermo di qua che c'è tipo maffi che si sistema baffi con la cera per un'ora dovrebbe essere interessante effettivamente oh steve fortissimo il tanner mario do you like the four mana raptor i don't quanto stai di rank 646 e b boh fumo molto bello sto dito dire che in mano non ha un remove per thunder allora monored ha fatto cose da monored nel senso c'è l'abbiamo masticato masticato vivo così stine nuovo sparo che ti tenta no maghi voglio aggiornarlo con pesca e ti tenta l'anello sparo che ti tenta l'anello e tre mana scegli uno o due sei un mago cinque danni pesca due spacca la carta è fatto che secondo me quella carta è forte forte ma come ti permetti come ti permetti di andare a 21 che cazzo sei bro ciao adonis drisbis robot ni crebel talatrones tiro come voleva si dimostrare era il migliore degli adversari lui quello bianco ha visto anche abbastanza giovane in lord of the ring ci sarà una cartilla bellina per i z maghi più di una fidati ben più di una anzi addirittura ce n'è una che vorrei addirittura inserire ma non c'è posto lui lo faccio aiotti eh semi pratta questa cazzo di emperor non la vuole fare vabbè intanto non è pacifismo ma è planar disruption che blocca anche l'abilità degli artefatti e dei planswalker che non è così male questa carta a volte è meglio justification perché questa toglie anche bankbuster cioè ora non c'è bankbuster però nel caso fosse come negato o come ti permetti di negato prendiamoci una terra in eccesso niente non esistono i figurini in terra voglio provare S per spirit in istorico rede rispetto i 3-3 che fa out gli spirit ok anche la carta che fa gli spirit 1-1 però li fa tappati porcaccia la merda 1-1 1-4 1-4 1-4 intanto la c non voglio fare usalo il mana tutto ci aveva ciao ciao Mirko perché non giochi anche tu le carte di supereroi Marvel Snap Marvel Snap è un bellissimo gioco da popò parlavo l'altro giorno anche con i ragazzi della sala LAN di Milano Snap io non ce la faccio a portarlo live cioè io ho anche giocato e mi è anche abbastanza piaciuto il problema è che dopo mezz'ora mi stanca perché è un gioco veramente tanto veloce e se in mezz'ora mi sono rotti i coglioni non è un contenuto che posso portare in live però c'è anche quello della DC e basta madonna basta esce un gioco di arte al giorno è come se non uscissero abbastanza prodotti di Magic per stargli dietro devo giocare anche a tutti i gioi di arte escono tutti i giorni dio stracane come e no questo è cheating e questo è cheating palese cheating che cazzo vuol dire guadagni pagacosa perché c'è guadagni vita oggi nello standard ma cosa stiamo osservando davanti ai nostri occhi di elfo hai rotto la mima come te le remetti nel cazzo bro ma non si fa così non si fa così non si fa così io ero impegnato a parlare con il mio amico tube tube peraltro tube t'hanno fatto una carta ora dove te la faccio vedere hanno fatto una carta di Magic ma te non te ne sei accorto mi sa te la volevo mandare ma poi me la sono dimenticata capisci perché dico che si doveva POP stai zitto troppo per me eh zio bastardo cane merda però si però si ha 5 cioè se non riempiri altri milioni di punti vita e mezzo con quella merda lì pesca una carta guadagni 73 ecco contro questo matchup cotta è buono vedremo del mini che fai stasera me la laddero in chilling me la laddero nel chilling totale perché in questo periodo voglio provare un po' di standard considerando che quando esce il suonire anelli sarà un estate di historic sarà un historic molto bene c'è problemi c'è i problemi cut punish basta le warcraft rapid fire e strike tutto il resto sono botte quindi vabbè si figa bro un tot play forest è chiaro è chiaro scusa è questo che si mette a dire cose 2-1 cosa fa 2-1 meno meno più meno meno più vengo meno 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 di meno 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 di più chissà quali sono gli avatar di arena con più weird trade interessantissima questa cosa tipo vincono quelli che hanno teferi perché giocano tutti meglio perché giocano control oppure chi ha jace come avatar è un nerd senza vita e quindi è più forte se l'ho chiuso di vedere anche i dorsi vediamo con le gemme oltre a prendermi il pass di majestia per cosa le uso draft eventi best of one brimblez brimblez scusa guardate per il prime o il secondo mese la conferma se ti tiro fuori è interessantissimo sta roba a me piace un botto urabrasco in questo momento perché è ben renderizzato hanno fatto bene il render Wallace sembra tagliato con le forbici non mi piace qui si vede che ci hanno messo tipo almeno due minuti intanto doppio field of ruin con l'immagine diversa meriti di perdere fortissimo proprio forte meriti di perdere ma però ma cosa vuol di sette punti vita ma stai pazzo se c'è tascia ti fai le seghine se c'è tascia perché ti fai i rasponi mentre giocano i partiti di meriti misca è bello effettivamente il cavalliere bianco la colonna del bulgare king fa straridere lui è brilli è un meme gigante ciao la retta ciao la rettin lauretta mia vim sono scuduti un po' di sabbi che è successo erano gifti di un mese fa qui già ragazzi c'è da salire per fare doki doki con silve non lo abbasso poi vediamo è imposato sarkhan per il costruito e jager per il limited ma perché fai lo split sti cazzi poi ci sono i pazzi scatenati che cambiano avatar per ogni mazzo cosa che ricordiamoci è una feature ma non la fa nessuno nessuno la usa li tiro l'avversario ero lì avversario abbiamo apritato la stazione quella feature aveva priorità sopra la spectator mod si 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 la spectator mod non è abbastanza importante voglio dire si possono comunque far vedere i mondiali a 480p da discord non vedo quale sia il problema forse l'avatar di urabrask mi ha aggiornato al sospetto in one penso sarebbe uno dei miei preferiti anche se ma questo urabrask è bello incurredibili ma è incurredibili come si spettator mod ragazzi io oggi ho fatto un errore io oggi ho fatto un errore grave e ho paura della mia mente di cosa sta creando in questo momento ragazzi io oggi mi sono riguardato mentre cacavo quando cacchi devi stare attento che la mente viaggia io oggi mentre cacavo mi sono riguardato un paio di video di arst bene ammetto ammetto di avere un po' di voglia pochino un pochino non troppa pochino no 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 battlegrounds vada ancora ci gioco io battlegrounds ogni tanto qualche partitina me la faccio no allora c'ho sempre giochicchiato proprio il costruito che c'è delle meccaniche nuove adesso che mi stuzzicano un po' ammetto che mi stuzzicano no perché perché devo distruggermi non sto più nemmeno portando pokemon ragazzi pokemon mi sa che lo riporto quando esce il dlc o in questi giorni in questi giorni potrei portare pokemon invece perché veramente aspettando il signore negli aneddoti è veramente pesante ma non gioca emperor questo mazzo sta carta è stronza si maffii no no pokemon competitivo ragazzi sta già per uscire la regulation d e di regulation c non ho fatto nemmeno master ball un po' mi vergogno se dico la verità la 300 mi sembrava un po' troppo un cammello ballo perché non lo fai ma cosa sono troppi ciccio con calma ok con calma poi se ne parli allora parlando della challenge va bene parliamo sto facendo ho fatto un attimo un marcia indietro perché vorrei renderla ufficiale e non ne voglio parlare più prima che si sparga troppo la voce qualcuno mi prende l'idea la vorrei rendere ufficiale wizard quindi vediamo io sto continuando a scrivere sto continuando la settata sto informandomi appena è finita e probabilmente la testerò off live voglio vedere se effettivamente riesce a fare roba grossa esatto è tipo una challenge mondiale con premi in palio ecco parliamo di roba del genere e quello che vorrei fare io è quello cioè con il mio nome ovviamente l'ho inventata io e tutto ma ufficiale wizards con dei premi esatto magari va tutto in merda non mi cagano vabbè me la faccio per conto mio ci sta molto probabile considerando arena considerando che tipo in Europa non c'è un settore arena quindi dovrei comunque interfacciarmi col discorso americano oh ma anche solo ti vinci un box se mi dicessero va bene budget monetario è il cazzo però ti si dà dei box tanto a loro box le cagano così e anche solo vinci una challenge fai content in più ti vinci anche un box e qui intanto abbiamo ripescato terra dove vado io comunque non va bene non va bene che ci sia in giro nel mondo per chi su youtube guarderà questo video non sa di cosa sto parlando sto codificando l'ho fatto anche live sto codificando una challenge di arena personalizzata saprete tutto a tempo debito wizards non ci sta dentro le sorpiature ma di arena gli importa una sega è quello su cui voglio far leva tanto arena non gliene frega un cazzo posso farci una challenge io vi faccio è pubblicità gratis no è quello che voglio per quello la voglio fare ufficiale che tanto loro non ci fanno niente se no è lì abbandonato arena ci buttano le figurine quando escano ci sarebbe cot di side contro contro ma non l'ho visto siete d'accordo? sì master è risaputo che fa bene eiaculare almeno 4 volte a settimana il frattempo perde sì fake roba del gem gemme ma oddio per loro secondo me è meno è meno rottura di coglioni mandatti un box che datti le gemme su arena comunque vedremo a tempo debito contatterò chi di dovere e a tempo persa ok chiusiamo sto discorso perché tanto finché non so niente di più io non posso dire nient'altro masin fiddo giochi vgc pokemon sì ora è tanto che faccio una partita a settimana praticamente intanto pardini ai mondiali signori intanto va detto godo questo è il play with fire di dio ok maffi quindi lascio la sezione perché stavo per toglierla io è ferma non ho fatto una guida al draft ancora non la vorrei fare cioè è vero che sarebbe content puro però è vero anche che vorrei cioè sarebbe meglio farla fare a chi è meglio più più ferrato di me cioè io sono bravo al draft ma medio sono un 7 ecco uh visioni di parelli di pare di pare di pare vabbè qui ho vinto io scusami come lo batti un thunder mo 6 6 che spara due danni a ogni turno si una base la dovrei fare si la farò la farò si si un 1 che pare al travolgere fa sempre piacere voglio dire allora è mono red quindi non rischio nulla tanto vale fa diventare ancora più grosso lui sti cazzi sono due danni gratis non voglio mettere i video di te che giochi a pokemon sono contro sicuramente non su youtube il varia delmo non va su youtube se non per motivi grossi potrei registrare ma quando ci gioco molto più seriamente si se ci giocherò più seriamente si cot spacca il mirror mi sa di si come l'impressione di si magari uno dai li guarderesti si te si gli altri no nel senso sicuramente non andrebbero a togliere la schedule base andrebbero a togliere magari se andrebbero ad aggiungersi ad altri video come facevo con legend of dragon però ci devo tornare seriamente per fare video su pokemon vuol dire che ci devo fare le live buona il three spirits fortissima questo è lo spacca mirror comunque invasione di tarkiru britney spears rotta non sono esperto ma l'idea è portare tanti contenuti diversi forse è buono non lo è non lo è c'è una base di follower di persone che ti seguono per il contenuto per il quale ti hanno seguito che non sto scherzando basta un video fuori quel contenuto e rischi che ti tolgono il follow non sto scherzando funziona così internet oggi quindi è molto rischioso fare cose fuori se non sei sicuro che vadano bene si ti ho un'idea di quanta gente ti segue perché fai purtroppo anche tiktok è colpa di questa cosa se fai sempre la stessa cosa sempre tutti i giorni dal momento io ti seguo per quella cosa il giorno ne fai un'altra faccio no non mi interessa più questo è il ragionamento dell'attenzione di adesso l'attenzione che c'ha adesso praticamente internet e tecnicamente basta un video fuori argomento che rischi che la gente ti tolga la sub da youtube o il follow su tiktok in generale mentre cosa non rischi questa cosa è in live in live non è che la gente ti toglie la sub per quello dico io le varietà le faccio volentieri le cose diverse da magic le faccio volentieri faccio assolutamente tanto volentieri ma non non dove restano ecco perché in live se te porti se io faccio un giorno un'intera live di pokemon non succede assolutamente niente magari quella live mi va un po' peggio perché ovvio la gente mi segue solo per magic non mi guarda ma non è che il giorno dopo non mi guarda più mentre il ragionamento dei video tipo youtube è è io l'ho seguito in modo che nella feed delle iscrizioni mi arrivino quel tipo di video ok mi seguite quel tipo di video ora io ho aperto il mio youtube e mi è venuto un video su pokemon non ce li voglio non ho voglia di ignorarlo non lo voglio nemmeno vedere questa è la reazione di quelli che ti seguono diciamo sui social a video caricato quindi su quelle cose è molto rischioso uscire dalla tua base mentre in live non rischi assolutamente niente rischi solo una live che va un po' peggio infatti non ho problemi ti puoi portare Doki Doki con Silvia sti cazzi H5 mberg five mberg una grande mano eh 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 Feldon bella sta l'ho presa se non sbaglio questa ah qui io finché non ho un bel turno dove effettivamente virare su Tarkir andrei faccia e questo è un problema non posso rischiare a Muranto porta spesso cose diverse non su Youtube o non sono le fans ah le fans distrutte cioè sei sei una persona finita se cambi una volta contenuto regata già vecchia sì purtroppo sì allora questo è molto interessante questo mi assicura il drago anche se perdo la terra che non è male uno tre va bene due per uno come ho fatto io ci sta ci sta e squindo non lo giochiamo ma continua ad essere una buona carta di magic mi fa warcrafting no non penso hai mai lavorato al di fuori di Twitch no ma stai scherzando io ho vissuto 29 anni no ho vissuto 30 anni di aria master ma stai scherzando io da quando ho finito le superiori al 2009 cioè sì alla fine 2019 ho iniziato Twitch e io ho campato di stenti e bestemmie ma che domande sono oh vabbè mistero fatto custode parcheggiatore addetto alla sicurezza cioè butta fuori caldaista giardiniere commesso animatore capo animatore fotografo grafico e ora content creator no coglione problem io lo facevo in un parcheggio davanti al porto dove la gente lasciava la macchina per andare all'elba era un vero parcheggio il sardo è stato un mestiere no in sardegna ci ho fatto l'animatore e il fotografo essere sardo è un lavoro a tempo pieno sì non è facile non è facile e qui ci sono grandi scelte di magic spaccare l'adversary no animatore non comprende il fotografo non due lavori completamente distinti anche se l'ho fatto nello stesso posto è sempre meglio fare questo buonasera toon ciao tommy tutto bene no non nello stesso momento assolutamente ho fatto il fotografo quando ho mollato l'animazione mi sono fermato in pianta stabile in sardegna per altri due anni beh non penso tu voglia andare a uno almeno un altro lo blocchi che dici diciamo che non è proprio la scelta non è quasi ma allora mi permetto di dire una cosa esatto non è quasi mai la scelta migliore andare a uno contro monored di base così per parlare ecco giusto sbaglio mi sembra l'ultima volta che ho controllato l'ultima volta che ho controllato andava uno contro monored c'erano opzioni migliori ecco vedete starnutisci muori non puoi attaccare adesso ok ecco questa gg si toglie tutto ciò che non può bloccare e il punish e si gode johnny el flaco con un beso del flaco la ria rotta è fuera con un beso ed anche solo uno fuera con un beso del flaco johnny el flaco la ria rotta è fuera con un beso anche solo fuera tutta patatone johnny el flaco grazie mille ti sei preso un cantone incredibile hanno annunciato un altro tool degli elio delle storie tese e io devo andare almeno ad una data per forza perché se no soffro altra grande cosa matt rife dal vivo al milano nel 2024 ragazzi ottobre 2024 sono felicissimo se non sapesse chi è matt rife è tipo lo stand up comedian del momento ecco diciamolo così sì vieni maffi 2024 ottobre c'hai tempo di organizzarti ecco è una bomba è una bomba è troppo bravo squè è forte squè perché io non gioco squè questo si fa sempre ma questo vediamo e mo vediamo e mo vediamo eh e mo vediamo perché c'ha ma sta pazzi è un fenomeno sì sì monta su un palco due ore senza script e le tira tutte da stante la flaca si chiamava la flaca di arabe de palo cazzo cadde ah ti rendo fan per focaccia vabbè mi sono rotto il cazzo io tiro Warcraft su Tarkir eh se no siamo qui a smacchiare i jaguari e non ho voglia eh questo Kumano vuol dire non è un cazzo in mano forza forza vado a prendere un'altra terra o sirtuno dopo c'ho adversa ribotto oh lo vedi lo vedi che basta volerle fare le cose a modino certo Warcraft poteva essere istantaneo eh la potevano fare istantaneo costa doppio rosso ci sono botti da 5 che costa un 2 1R sto esagerando è un po' forte istantaneo il fatto che pescava le figurine per il turno dopo un po' un po' troppo ecco no diceva comunque distorna alla fine non succedeva niente alla fine dovevi se lo usavi instant dovevi comunque usare la carta nel turno dell'avversario quindi perdevi la terra no? la potevano fa dai che la potevano fare la potevano fa instant non se la so sentita pessimi pessimi posso dire pessimi posso dire ce la so sentita l'hanno un po' spussato poteva essere instant secondo me magari aspetta di tapparti prima di power crap vabbè lezzi si abbastanza ti dico abbastanza no porco vabbè eeeh ristampina di snap out ci starebbe no perché godo a vedere quelli che giocano power per spendere 100 euro per una carta quindi no va bene persa da eeeh Grazie a tutti Vorrei un pezzo Niente pezzo Boh, abbastanza pessimo sto devastante Dismembering storico Un mana 4 danni ci sta Ci sta Ti dico sarebbe bilanciata Un'altra urlo urlo è andata bene è andata bene a Gianni Spertili stavo per urlare avrei urlato stavo a tanto così da urlare oddio boia allora per scobla di Betrayal te lo tiro nel viso tiro vino tiro vino tiro vino peccato non potevo fa' tutto me lo mer- mi meritavo un Betrayal però vabbè no Ora pesco Warcrafting Spacco Tarkir Pesco un altro pezzo Vinta Umano Demo prelise lo fa Alberto? No Sono a piombino purtroppo Non posso farlo proprio Sono occupato in quel weekend Divertitevi Sbustate bene Vabbè dai ci vediamo In altri momenti Capiterà Attacco un po' di merda Posso dire O c'ho remove al sorcery Sceva ande va ste Questo lo devo fare Sennò poi mi attacca e peggio Che senso non ha Che senso non ha parato Scusate Non ha attaccato per E niente Siamo arrivati al classico Ok puoi stabilizzare di pure quanto ti pare Contro monored da 3 punti vita Morirai Minchia Minchia A seconda di cosa pesco La tua mamma È una signora Eccellente Buona Simpatica Intelligente Potevo perdere Potevo perdere soltanto dal mirror Quindi monorosso E imbattibile Perché ho perso Da monored Basta Ho perso da monored A posto Easy Potevo perdere soltanto dal mirror